I prospect vogliono potersi identificare con voi entrando sempre più in relazione. Questa è una conversazione, non è una presentazione. Dai risultati derivanti dal lavoro che abbiamo svolto in Europa, abbiamo definito dieci principi chiave sul linguaggio che vi aiuteranno a comunicare con i prospect e soprattutto ad ascoltarli. Non importa in che ordine le mettiate in pratica e non è necessario che li impariate a memoria, è importante che ne acquisiate la padronanza applicandoli con naturalezza. Ognuno di questi componenti è stato studiato scientificamente e farà la differenza nella vostra capacità di comunicare con i prospect e soprattutto nella reazione dei prospect che vi ascoltano. La difficoltà più grande lavorando con voi imprenditori Amway consiste nel riuscire a trasmettere il concetto che non è importante quello che dite quanto ciò che gli altri percepiscono, che la vostra presentazione in sé è meno importante di quanto i prospect siano in grado di recepire dalla stessa e quindi se passate troppo tempo sulla vostra storia, sulle vostre esperienze, questo non gli aiuta necessariamente a capire quale sarà la loro esperienza. In tutto quello che dite e fate, osservate la loro espressione e il linguaggio del loro corpo. Cercate di capire se stanno assimilando le informazioni e se le stanno elaborando dalla loro prospettiva. Non importa quello che dite, si tratta di ciò che sentono i prospect, della loro percezione e di ciò che fanno mentre ascoltano. Ho visto imprenditori Amway parlare per 15, 20, anche 30 minuti e vanno avanti e avanti a parlare di se stessi, delle loro esperienze, delle loro vite e poi dell'opportunità Amway. Per 20 o 30 minuti, senza fare una sola domanda, senza coinvolgere. È come se stessero cercando di vendere qualcosa e vi garantisco che se cercate di vendere i vostri prospect non compreranno. L'approccio migliore è quello di trasformare tutto questo in una conversazione, in un coinvolgimento reciproco tra voi e i prospect. Perciò fate loro delle domande, cercate di capire cosa conta per loro nella loro vita, cosa considerano importante e più imparate da loro, più potete usare quelle informazioni per coinvolgerli durante la presentazione del piano di vendita e marketing. Questo approccio funziona. A nessuno piace ascoltare una lezione, le persone non vogliono nemmeno ascoltare dei discorsi, preferiscono essere coinvolte in una conversazione, quindi fate sì che quella conversazione ci sia. Deve trattarsi di una discussione, dovete dare e ricevere. Non state cercando di persuadere le persone, state cercando di entrare in relazione con loro e nella loro vita di ogni giorno. Secondo uno dei principi chiave sul linguaggio, frutto della nostra ricerca, se parlate per più di tre o quattro minuti senza coinvolgere i prospect, rischiate di perdere la loro attenzione. Cominceranno a guardare il cellulare, si guarderanno intorno nella stanza, non si sentiranno coinvolti. Io guardo i loro occhi durante le mie conversazioni. Mentre parlo, il mio sguardo è fisso sui loro occhi. Se ricambiano lo sguardo, significa che sto entrando in relazione con loro. Se guardano altro, vuol dire che ho perso la loro attenzione. Guardate i loro occhi e saprete subito se la vostra conversazione sta riscuotendo successo o se invece è destinata a fallire. Durante il nostro lavoro di ricerca, la domanda più efficace tra tutte, quella che ha catturato maggiormente l'attenzione delle persone, si è rivelata anche essere quella più semplice. Se tu avessi 1000 euro in più, cosa faresti? come li spenderesti? Ponendo loro questa semplice domanda, capirete quello che i prospect pensano, ciò che provano, cosa conta per loro. E questo significa affrontare la comunicazione con spirito critico, non solo ascoltare quello che i prospect hanno da dire, ma anche imparare da ciò che dicono. Facciamo un passo avanti. Abbiamo scoperto l'efficacia della domanda sui 1000 euro in più. Ma per quanto questa risulti importante, quella successiva lo è ancora di più. Vi faccio un esempio. Se la risposta è, beh, farei un viaggio, chiedete dove. Se i prospect dicono, andrei a fare shopping, chiedete cosa comprerebbero. Se invece rispondono, li metterei da parte, chiedete per fare cosa. Questa domanda successiva li rassicura sul fatto che vi state interessando a loro e garantisce un contatto con loro rispetto alla loro vita quotidiana e alle loro esigenze. C'è un altro elemento importante sul linguaggio che vorrei condividere con voi. Si tratta di sostituire una parola che siete soliti usare, la parola sogno o sogni. Quali sono i tuoi sogni? Ecco che si presenta il problema rispetto a questa parola. Per le persone, per la maggior parte delle persone, un sogno non è reale. Un sogno è qualcosa di non realizzabile. Invece di dire quali sono i tuoi sogni, sarebbe più efficace chiedere a loro cosa immagini. O meglio ancora, immagina una vita perfetta. Immagina una bella vita. Cosa faresti? Dove saresti? Con chi saresti? Voglio che immagini tutto questo. E poi chiedete loro di descrivere cosa immaginano. Cosa vedi nel tuo futuro? Cosa hai in mente? Voglio sapere le cose che immaginano. Se mi dicono che immaginano più tempo con la famiglia, allora tutto ciò che dirò per i prossimi 20 minuti sarà orientato alla famiglia. Se mi dicono che immaginano una casa più grande o l'indipendenza economica, allora mi focalizzerò sugli aspetti economici. Vedete, è difficile riuscire a mettere a fuoco l'immagine di un sogno. Ma tutti possono immaginare come sarebbe una vita perfetta. E se fate loro questa domanda, se vi focalizzate sulla parola immagina e lasciate da parte la parola sogno, vi garantisco che sarete molto più vicini alla realtà. Ed è il linguaggio che vi aiuterà a entrare in relazione con loro e aiuterà loro ad avvicinarsi a voi. Mi rendo conto di sembrare un po' formale vestito così, ma è quello che mi hanno detto di indossare. Non voglio che voi siate troppo formali. Ci hanno detto non presentatevi in giacca e cravatta, non presentatevi con un vestito elegante. I prospect vogliono potersi identificare con voi entrando sempre più in relazione. Questa è una conversazione, non è una presentazione. Più siete coinvolgenti, più riuscirete a essere efficaci nelle relazioni, mettendovi nei loro panni, ma mantenetevi sempre a un livello appena superiore. Per esempio, se si presentano in dolce vita, voi presentatevi in camicia maniche lunghe. Se si presentano in camicia, voi indossate una giacca. Se indossano una giacca, voi un completo senza la cravatta. Mostratevi a un livello leggermente superiore, ma non di più, perché alla fine devono potersi identificare con voi, devono potersi avvicinare a voi. Se vi limitate a fare una presentazione, rischiate di perdere la loro attenzione. Se invece avviate una conversazione, vi ascolteranno e riuscirete a entrare in relazione con loro.